...fai l'apparato... ...diamo questa altra cosa, facciamo il pezzetto, vediamo quello che viene adesso, dai... ...no perchè tanto vicini, io ci provo... ...eh finchè ci riesco, ci sto... ...lo devo far passare a lui no? ...lo devo far passare a lui no? ...eh, lo devo far passare a lui no? ...dice... 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 ...fai lì, ho il farlo giù, ma toccava lì indietro... ...ma toccava lì indietro... ...per farti io... ...per sapere lui no? ...ah... la bicicletta